O Madre degli uomini e dei popoli, tu che conosci tutte le loro sofferenze e le loro speranze, tu che senti maternamente tutte le lotte tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre che scuotono il mondo contemporaneo. Acoli il nostro grido che, mossi dallo Spirito Santo, rivolgiamo direttamente al tuo cuore. Abbraccia, con amore di Madre, questo nostro mondo umano, che ti affidiamo e consacriamo, pieni di inquietudine per la sorte terrena ed eterna degli uomini e dei popoli. O cuore immacolato, dalla fame, dalla guerra, da un'autodistruzione incalcolabile, liberaci dai peccati contro la vita dell'uomo, sin dai suoi alburi. Liberaci, liberaci dall'odio, liberaci da ogni genere di ingiustizia nella vita sociale, nazionale e internazionale, liberaci dalla facilità di calpestare i comandamenti di Dio, liberaci dal tentativo di offuscare nei cuori umani la verità stessa di Dio, liberaci Dallo smarrimento delle coscienze del bene e del male, liberaci dai peccati contro lo Spirito Santo, liberaci, liberaci. O Madre di Cristo, si riveli, l'infinita potenza salvifica della redenzione, che esso arresti il male, nel tuo cuore immacolato, si sveli, per tutti, la luce della speranza. Amen